vabbè facciamo la parte 2 vai questa qui è la parte 2 del filmato ma Zao da dopo un no due di picche signori ma Zao un po' troppo scioccato non riesce a capire il motivo che c***o ti devo dire? tira un'altra testata che magari una ragazza ti viene dietro no sul ferro tocca ferro Zao magari gli porta fortuna dietro stai fermo che ce ne fosse una una dico una dice lui Zao ci ha provato con tutte le ragazze di questa fila nessuna gli ha detto di si tutte le ragazze di questa fila ci ha provato Zao e nessuna gli ha detto di si in quale era la mia ex? tranne lei erano disperati in quel momento in un momento di non lucidità tra tutte queste ragazze diciamo che la media è uno su un milione aspetta a tutti gli amici di youtube sto cercando la ragazza con cui stai ma vai a c***o allora un'età in compresa tra i 18 e i 19 anni la voglio bionda con due voce e un bel pulone ecco mi raccomando Zao rifacciamo aspetta spostatevi un secondo tutte le ragazze che non la danno a Zao tranne io e lei la ho detto di non spostarvi capito? lui non era una ragazza e si è stato ripreso anche lui lui vabbè si vabbè lui aveva un travoglio Angelica Angelica nessuno gliela ha data l'uomo la ragazza che non gliela ha mai data che non gliela darà mai ripeto quante volte te l'ha chiesto? troppe stupate troppe stupate dalla regia mi dicono che tu sei una suora chi io la sua sono? una suora ma parla almo una cosa non ha film cazzo prima hai riusciato di essere castrato non ero ancora scopato da 9 anni si dispiace per lui ma secondo me non ce l'ha mai avuto e lui lo nasconde no lui c'era veramente che dentro sotto tutti i peli quanti peli hai Zao? facci vedere un attimo la pancia così ti censuro il video cazzo qua guardate guardate che bella roba le facce serie scandalizzate della gente qua intorno ricordiamo che siamo al Palo Onda di Bostano quindi un primo piano dell'inti di Masao l'avate l'ultima volta durante l'ultima era glaciale ma vattene a fanculo Vittor tu mi devi aiutare lo devo aiutare chi vuoi? allora popolo di Youtube che ha coraggio di stare con questo uomo tu devi fare per rin alto circa un metro santa tu devi andare in giro fisico pessimo però quello che c'è dentro è buono stallone italiano furaccia che c'è dentro è buono pura lana italiana lana merino lana merino quando vedete sto video e dopo caccia nera sulla pancia e voglio dire che io vi amo tutte anche se non vi conosco siete bellissimi ma no mi dispiace per il popolo di Youtube ma Youtube chiuderà Youtube chiude dopo queste dichiarazioni di Masao più né nessuna ragazza andrà su Youtube ma io il primo piano dell'occhio di Masao non penso la ragazza che mi la darà mai Masao penso che differenza che Mila ha fatto gol mentre Mila ha fatto gol io penso che in questi giorni che cazzo intervista Masao quindi più sfigato quante volte te l'ha chiesto Masao? quante volte te l'ha chiesto? vabbè trasporto la telecamera 5 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